Situazione di fine settimana abbastanza semplice chi comanda sono sempre loro i rendimenti questo è un rendimento sul decennale americano che ha toccato il target a 2,7 a questo punto a strada libera verso il 3% che sarebbe un traguardo importante e stiamo a vedere se ci sarà la forza per proseguire in questo up trust importante perché è un momento notevole e non ci sono segnali di cedimento per il momento conseguenze conseguenze la prima conseguenza che comunque questo movimento sul decennale americano si tira dietro gli altri si tira dietro gli altri governativi comunque anche la BCE questa settimana ha segnalato appunto l'intenzione di voler forse procedere a un rialzo dei tassi quest'estate quindi il rendimento del Bund si porta in area 0,8 che riesca a superare 0,8 al primo colpo il test si mi sembra una resistenza molto forte sono livelli che non vedevamo dal 2018 comunque ci stiamo per arrivare seconda conseguenza il cambio euro dollaro chiaramente con un rendimento del tassi americani così elevati differenziale dei tassi molto a favore del dollaro quindi dollaro forte euro debole d'euro che ha già sfiorato il target a 1,08 di cui abbiamo parlato in diverse occasioni e credo che ci stiamo avviando a un ritest di questo livello rimarrei molto sorpreso se dovessimo bucarlo al primo colpo o comunque al secondo tentativo visto che c'è quasi il secondo tentativo in atto dopodiché la strada sarebbe libera fino a 1,06 dove ci sono i minimi del 2020. Altra conseguenza sui tecnologici, i tecnologici non gradiscono il rialzo dei tassi quindi il Nasdaq è questo, lo evidenzio agli amici che seguono questo settore, il Nasdaq questa settimana, tweezer top e embarrassing golfing su scala weekly, ricordo che stiamo guardando i grafici settimanali come ogni venerdì, fatto su una volatility stop line che ha già cambiato colore quindi la struttura è ribassista già da qualche settimana e questo è un failure dopo un rally di correttivo del primo movimento ribassista iniziato ai primi di gennaio per gli appassionati dell'indice diciamo ci siamo fermati in area 15.000 prima abbiamo visto le tf delle 3q, questo è l'indice Nasdaq, il grafico è uguale però qui vediamo i livelli dell'indice quindi failure a 15.000 siamo in discesa questo pattern apre la strada con ogni probabilità al ritest dei minimi di gennaio e febbraio ovviamente il quadro verrebbe negato se dovesse girarsi e superare 15.000 comunque anche qui figura di Barry Schengolfing abbastanza netta. Chi rimane un po' più in alto è il Dow Jones perché questa settimana ancora abbiamo assistito a questo fenomeno di uscita da un settore ma fondamentalmente il denaro rimane all'interno del mercato azionario si dirige verso i settori cosiddetti difensivi ora fra un po' vedremo anche qualche titolo di questa di questa categoria e quindi il Dow Jones che rappresenta un po' l'indice dei 30 titoli industriali principali pur non facendo niente di entusiasmante e comunque evita quantomeno di estendersi verso il basso con una candela nera come ha fatto il Nasdaq. In ogni caso siamo al terza star qui vi ricorderete la figura di Arami che aveva segnato la frenata c'è il video di due settimane fa che era appunto intitolato frenata sul settimanale era dovuto a questa configurazione di Arami la frenata si è verificata perché è già da due settimane che siamo fermi su questi livelli di 348 questo è l'ETF dia che corrisponde 348 a 34.800 di indice chi rimane più debole sempre il Russell che è già in tendenza negativa dalla fine del 2021 questo è il secondo failure sul volatility stop line quindi anche qui da un punto di vista grafico ci sono tutte le premesse per un ritest dei minimi a 188 questo è l'ETF IWM che segue l'indice Russell. Vediamo l'Europa il DAX che finisce venerdì con un più 1,46 non è un bearish and gulfing netto come quello del del Nasdaq comunque anche questa è una configurazione di debolezza e un rifiuto con questa shooting che era stata già configurata la scorsa settimana è un rifiuto fatto proprio sulla volatility stop line discendente quindi stessa configurazione del Nasdaq anche se la candela settimanale è meno pronunciata. Futsi Mib quasi identico un hanging man Futsi Mib è sempre un indice un po' più sbilanciato per la forte presenza dei bancari al suo interno nel bene o nel male e quindi quando i bancari vanno su abbiamo avuto in questi giorni il rally di Banca Popolare di Milano ci sono delle vicende diciamo che hanno a che fare più con l'assetto societario che non con i fondamentali comunque morale della favola per il Futsi Mib anche qui una candela tipo hanging man quindi una frenata fatta proprio sulla volatility stop line sono tutte configurazioni che richiamano la prudenza per chi ha posizioni long e quindi prendere opportuni accorgimenti sul portafoglio questo per quello che riguarda gli indici azionari verrei alle richieste perché ne abbiamo diverse comincerei con l'oro grafico settimanale l'oro dopo il top toccato il 7 di marzo questa è stata chiaramente stato chiaramente un buy in climax come si suol dire perché era una salita di sei settimane che era partita alla fine di gennaio da area 1.800 ed è tutta una tirata fino a 2075 quindi eccesso smaltito siamo ritornati sui supporti in area 1.900 direi che ha tenuto abbastanza bene e potrebbero esserci i presupposti per un ritest delle resistenze più alte la prima ovviamente quella in area 2.000 do seguito al video di giovedì dove appunto dicevo che forse si stava preparando a rompere le resistenze vado un attimo salto sul grafico a due ore per dar seguito a quello che dicevo giovedì le resistenze erano state marcate da queste shooting che avevano fermato l'avanzata dopo appunto questa figura di riaccumulazione quindi numerosi test dei minimi però i massimi non riuscivano a essere superati giovedì vi avevo detto che sembrava qui da questa configurazione che ci fosse l'intenzione di appunto attaccare in maniera più decisa le resistenze questo è avvenuto è avvenuto questi queste adesso dove sono ora col pointer questa è la mattina dell'otto quindi la questa candela di espansione candela delle 15 quindi con l'apertura del mercato americano nella giornata di venerdì c'è stato il l'espansione verso mila area 1.950 con una chiusura molto forte quindi se questo dovesse continuare faccio notare qui questa questo minimo arrotondato queste sono figure grafiche che se rotta e rialzo vorremmo vedere anche dei volumi al momento della rottura sono in genere abbastanza affidabili con una probabilità buona di riuscita lo spazio verso l'alto come abbiamo detto c'è il primo target area 2000 trascurerei questo top perché chiaramente questo sarebbe stato un failure che avrebbe dovuto portare già i prezzi più in basso invece no è stata necessaria una fase di accumulazione molto più lunga in questo momento le probabilità sono più per un break verso l'alto si parla sempre di probabilità qui la certezza non ce l'ha nessuno quindi sempre attenzione agli stop e sempre attenzione agli scenari alternativi l'argento in una situazione simile rialzo è stato un po' meno pronunciato però è uguale diciamo dopo il buying climax del 7 marzo abbiamo avuto una fase di consolidamento promettente promettente nel senso che alla rottura delle resistenze di breve adesso sono tornato sul grafico settimanale non abbiamo il tempo di andare sull'intraday comunque il concetto è uguale a quello dell'oro altre richieste eni più 4 per cento sul annuncio del buyback qua c'è chi comanda siamo sulla scala settimanale e anche qui questo mega questa mega shooting del 28 febbraio con picco di volumi normalmente queste candele fatte così aprono la strada a un periodo di movimenti laterali di volatilità elevata e di movimenti laterali con numerosi test di supporti e resistenze che mettono a dura prova i nervi degli operatori perché generalmente sono anche accompagnati da parecchi falsi segnali quindi i livelli all'interno dei quali mi aspetterei che il titolo continui ad oscillare nelle prossime settimane sono quelli che ho tracciato quindi fra 12 e 3 14 8 area 15 diciamo perché poi comunque i test con soprattutto con questa volatilità e comunque con soprattutto per il fatto che appunto vi dicevo ci sono falsi segnali non prendiamoli al tic questi livelli comunque sono livelli da tener presenti ora queste notizie poi ci si c'è la speculazione sul petrolio notizie del buyback e quant'altro quindi ogni volta ci può essere l'occasione per portare i prezzi più in alto più in basso comunque la volatilità è aumentata parecchio quindi direi all'amico di valutare le sue posizioni normalmente in fasi del genere può essere anche una buona norma se non uscire del tutto perché non ci sono segnali di reversal comunque prendere parte dei profitti altro titolo richiesto terna e su terna siamo entrati nella fase verticale ma in tutte queste fasi e non abbiamo eccesso di volumi in questo momento quindi una chiusura molto forte sui massimi qui l'impressione è che il rialzo qua non sia finito queste sono fasi dove ovviamente entrare tardi nelle fasi così di andamento parabolico e men che meno mettersi short su un trend così forte quindi però diciamo questo è un trend che va lasciato andare finché va ecco finché non ci sono segnali tecnici che in questo momento non ci sono soprattutto con una chiusura weekly così forte quando la chiusura di venerdì è proprio sui massimi ultimo titolo tenaris allora tenaris un discorso in parte simile a quello di eni anche se qui nuovi massimi li abbiamo toccati qui il buying climax c'è stato il 7 marzo anche qui con picco dei volumi e questo è quello che vi dicevo cioè si aprono delle fasi ad alta volatilità con numerosi test verso l'alto e verso il basso qui tra l'altro siamo su una resistenza molto vicino a resistenza importante quella di area 15 del 2018 quindi io qui avrei un po più di prudenza perché quantomeno abbiamo avuto dal candlestick dei segnali già di preallarme il che non vuol dire che come vedete che i prezzi non possano continuare a salire perché siamo in una fase un momento molto elevato e molto speculativo un altro campanello di allarme il calo dei volumi cioè calo dei volumi significa che man mano che i prezzi salgono c'è meno interesse da parte degli operatori di stare sul mercato di far parte delle transazioni quindi non mi meraviglierebbe qui uno storno appunto con test primo test dei supporti in area 13 va bene direi è tutto per questa settimana la settimana prossima sarà molto importante perché iniziano le la pubblica inizia la pubblicazione delle trimestrali in america e cominceremo coi titoli finanziari quindi sarà importante vedere le aziende del settore cosa prevedono soprattutto quali sono le previsioni per la seconda parte dell'anno in considerazione della novità data dal forte aumento dei rendimenti che impatta sul settore finanziario e non solo quindi continuate a seguire grazie per il supporto che date entrambi i canali per i like che lasciate sempre molto apprezzati appuntamento a lunedì buon fine settimana a tutti